. Chievo, senti Maran, Lazio squadra preparata, pensiamo a noi stessi. . Questa settimana abbiamo lavorato nel modo giusto, con entusiasmo e con la voglia di fare bene. Non dovremo però eccedere, bisogna essere consapevoli dei propri mezzi. . Passaggio importante, poi, sulla Lazio prossima avversaria, troveremo una delle squadre più rodate, nel senso che comunque hanno giocato al meglio in un impegno importante, la Supercoppa contro la Juventus. . Sono un pochino più avanti nella preparazione e dal di là del valore tecnico troviamo una delle rose più pronte della Serie A. . Noi dobbiamo però guardare in casa nostra, abbiamo grandi motivazioni e vogliamo dare continuità alla vittoria di Udine. Vogliamo fare bene, avendo comunque rispetto per i nostri avversari. . 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